Buongiorno a tutti i telespettatori Buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa che andiamo a prendere in considerazione e a leggere soprattutto le prime pagine dei quotidiani regionali, dei quotidiani nazionali e delle prime pagine dei quotidiani sportivi e nella seconda parte andiamo a leggere le pagine interne dei quotidiani regionali. Perciò vogliamo subito dare la lettura alle prime pagine dei quotidiani regionali con il centro di Pescara che ha come titolo di apertura furbetti del cartellino. 20 indagati, Pescara inchiesta sui dipendenti della provincia addetti al controllo delle caldaglie. Nel taglio alto, vertice sulle autostrade a 24 e a 25 presso la prefettura dell'Aquila, autostrade accordo sui limiti, il ministero ora sono più sicure. Sempre nel taglio alto, Valle del Trigno, produzione di noccioline accordo con la Ferrero. Regione Vescovi e Eremi, chiese e cammini per rilanciare il turismo. Vediamo adesso la foto di apertura anche sempre del quotidiano il centro. Pilon, non siamo sazi, vogliamo 11 leoni. Ricordiamo che oggi ci sarà la partita con il Cittadella, poi nella seconda parte ascolteremo anche l'intervista che è stata fatta al tecnico del Pescara. Nel articolo di spalla, sinistra, sempre Pescara, cane aggredisce una ragazzina nel condominio. Centro illegale di scommessi, accolle Corvino, titolare denunciato. Monte Silvano, spray urticante per bloccare la rissa tra trans. Nel taglio basso, vediamo incendio nel market a Pescara Colli, evacuati clienti, fumo da una cella frigorifera, 30 persone costrette a uscire in strada. Vogliamo adesso spostarci nella prima pagina, sempre del quotidiano il centro, questa volta della provincia di Chiedi e anche della zona di Lanciano e Vasto. Titolo di apertura, a Chiedi il concorso punta sul Coco Festival, musica e degustazioni dopo le polemiche, i negozianti ricreare movimento sul Colle. Sempre a Chiedi il Movimento 5 Stelle dice irregolare la vendita della farmacia. Nel foto di apertura, anche qui, Asle Provinciale, visita della Commissione di Sorveglianza. Il centro senologico arriva alla certificazione europea. Nel taglio basso, a Fossa Cesia, trabocchi ampliati al via la sanatoria. A Lanciano, voragine chiusa, in centro è stop all'emergenza. Nel taglio basso, sgomberato i residens degli strupi. A Basto, ordinanza del sindaco Mena, avviati alla bonifica altri dieci palazzi abbandonati. Vogliamo spostarci adesso sul quotidiano, il centro della provincia di Teramo. Titolo di apertura, Teramo nuovo ospedale, tolti 34 milioni. Il ministro conferma lo stanziamento che però scende da 115 a 81,60 milioni. Nella foto di apertura, sul quotidiano, il centro della provincia di Teramo, per la proiezione del film sul fratello di Ilaria Cucchi, Teramo regala una grande accoglienza a Ilaria Cucchi. Nell'articolo di Spalla, Palazzo Pompetti, ufficio evacuati, il comune stringe i tempi. A Giulianova, cellulare rubato, trovato subito grazie a un'app. Ad Alba Adriatica, pesce fuori legge, sequestrato al negozio cinese. Nel taglio basso, vediamo a Colonnella, rapina una tabaccheria, arrestato. Il giovane fa il colpo vicino a casa, riconosciuto grazie alle telecamere. Vediamo adesso il centro della provincia, questa volta, dell'Aquila, con anche la zona di Avezzano e Sulmona. All'Aquila, tasse, si prepara la mobilitazione. Chiesto a Giorgetti un incontro urgente, commercianti in stato di agitazione. Sempre all'Aquila, nella foto di copertina, collegamento col benefattore in Canada, folla in piazza per la statua di Ovidio restaurata. L'Aquila, nel taglio di spalla, di sinistra, fanno sesso tra le tombe del cimitero. Avezzano, garage abusivi, demoliti nella zona Ater. A Sulmona, nuovo ospedale riconsegnato a dicembre. Nel taglio basso, vediamo, all'Aquila, bimba abusata da madre e patrigno. L'incubo della vittima minorenne finisce con l'arresto della coppia. Vogliamo adesso spostarci sulla prima pagina del quotidiano regionale del messaggero dell'Abruzzo. Titolo di apertura. L'Utopatia scatta l'allarme. Pescara, doppia operazione delle forze dell'ordine, ha le slotte anche una madre di sei figli. A Rancitelli il gioco è ormai un business criminale. L'ira di Don Max per la legge rinviata. A Teramo, invece, Luciano D'Amico, io in politica, è una possibilità. Vediamo, adesso, l'argomento autostrade, il MIT a sorpresa, adesso sono tornate sicure. Vertice con i prefetti all'Aquila, bene le limitazioni al traffico pesante. All'Aquila, invece, due minorenni all'ospedale, picchiati dal branco dei bulli. Vogliamo adesso spostarci sulla prima pagina del quotidiano La Città, della provincia di Teramo. Titolo di apertura. Ospedale confermato da Movimento 5 Stelle e Lega. Il governo accantona 81 milioni e 600 mila euro su 106 richiesti per il progetto per acuti di piano d'accio. Nel taglio alto varata la progettazione definitiva. Nuovo ponte sul fiume Vomano e pronto per la fine di aprile. La foto di copertina, strade dei parchi installate, le limitazioni ai mezzi pesanti. Così è sicuro. Tim dà le parole, si passa ai fatti. Il sindaco d'Alberta ha chiesto un'assemblea dei soci. Nel taglio di spalla, di sinistra, Giulianova, Mastromauro, si candida alla regione attaccando il PD. Vediamo nel taglio basso, nel ciclismo, gli alfieri del team Go Fast, Cannibali, aspettando Luca Allarò di Torano. Vogliamo adesso spostarci, abbiamo letto le prime pagine dei quotidiani regionali, vogliamo spostarci alle prime pagine dei quotidiani nazionali, iniziando dalla prima pagina del Corriere della Sera. La BCE, la Banca Centrale Europea, e le accuse. Siamo autonomi, standard eppure, si conferma il rating, ma avvisa previsioni negative, svolta Movimento 5 Stelle. Sia al TAP, nel taglio basso, vediamo l'orrore che è successo a Roma, la ricostruzione degli inquirenti, ha arrestato il quarto uomo, desideré due giorni in balia dei suoi violentatori. Nel taglio medio, nell'articolo di spalla destro, Pacchi Bomba ha preso un sospetto, Trump, severità sul furgone adesivi per Ted Donald. Vogliamo adesso spostarci sulla prima pagina del quotidiano nazionale della Repubblica. Scusate. Manovra, altra bocciatura, il deficit salirà fino al 2,7. Il giudizio di crescita rischio. Di Maio attacca Draghi, non aiuta il suo Paese. Vediamo, nel taglio basso, Conte ai sindaci, il TAP va fatto, Puglia e Rivolta, traditi dai 5 Stelle. Vogliamo adesso leggere la prima pagina del Fatto Quotidiano. Titolo di apertura, vediamo, la morte nera di una sedicenne, viaggia a cisterna di Latina in casa della ragazza dove tutto è cominciato e nelle piazze di spaccio dove i clandestini strappano ai banchi il mercato di cocaina ed è eroina. Infatti si parla la vera storia di Desiree. Nel taglio alto, previsione negativa per l'agenzia, il vero deficit del 2009 sarà 2,7% e non 2,4. Standard e Poor conferma il rating ma minaccia il taglio. Vogliamo adesso leggere la prima pagina del Quotidiano Libero. Titolo di apertura, nel paese dei disoccupati non si trovano lavoratori, resta scoperto un posto su tre. Abbiamo i record degli inattivi, eppure le aziende sono pronte a firmare 370.000 contratti. Peccato che nel 29% dei casi facciano fatica a reperire personale disponibile e competente. Nell'articolo di spalla di sinistra, sempre su merito a Desiree, è vittima pure dei genitori incapaci di tutelarla, abbandonata a se stessa. Nel taglio medio, nella foto di copertina, De Magistris, sindaco di Napoli, se la tira da Masaniello ed è un grande fardello. Nell'articolo di spalla di destra, Il piano salva conti, il Presidente Conte chiami banca intesa, così taglia il debito. Vogliamo adesso leggere la prima pagina del messaggieno, però questa volta del Quotidiano Nazionale. Standard e pur deglassa l'Italia, ma previsioni negative. L'agenzia USA conferma i rating, ma lancia un avvertimento sui conti. Così indebolite la crescita, deficit reale al 2,7%. Di Maglio attacca Draghi. Vediamo nel taglio medio. La foto di copertina, pregiudicato, preso in folla, al Donald, serie verità. Erano veri pacchi bomba. Fermato un ultra di Trump. Nel taglio basso, vediamo nell'articolo di destra, sempre di Desiree, ecco il verbale dell'orrore. Acqua e zucchero mentre moriva. Uno degli stupratori era il fidanzato. Fermato un quarto immigrato. San Lorenzo in piazza, dagli allarmi ignorati, un caso Reggiani. Salvini, fiducia sulla sicurezza, stop asilo agli irregolari. Sfida a Movimento 5 Stelle. Le raggi. Il titolo di apertura del manifesto. Il tip e tap. Di Maglio fa marcia indietro e cede un altro cavallo di battaglia. Dei 5 Stelle. Conte il gasdotto si farà fermarlo. Costerebbe troppo. I dissidenti del Movimento chiamano in causa Grillo. Scontro interno anche sul condono fiscale. E l'abusivismo ad Ischia. Nel taglio alto. San Lorenzo ieri in piazza delle donne. Manifesta l'Italia antirazzista. A Roma oggi il presidio è spostato nel quartiere dello stupro. Il mattino di Napoli. Titolo di apertura. Sempre sull'agenzia. Di Standard Report. Non boccia l'Italia ma previsioni negative. L'agenzia del deficit 2019 al 2,7%. Il cambio della Fornero minaccia i conti. Di Maglio e Salvini andiamo avanti. L'ipotesi di una manovra a vista a giugno. E in merito invece al Napoli calcio. Nel taglio alto. È ora di riportare il tricolore a Napoli. Dice l'allenatore Carlo Ancelotti. Nel taglio basso. Vediamo sia il TAP e bufera dei 5 Stelle. TAP e l'irpigna tagliata fuori. E vediamo nel taglio basso di sinistra. Incendio in numbe tossica a Marcianise. Rifiuti in fiamme. L'impianto sequestrato. I comitati terra dei fuochi abbandonata. Vogliamo adesso leggere la prima pagina del quotidiano Il Giornale. Di Maglio ora vuole comprare l'arbitro. Nuova accusa a Draghi. Ma gli italiani hanno paura per i loro soldi. Berlusconi lancia Weber. Cambierà l'Unione Europea. Siamo nel taglio medio. L'omicidio dei Sirei catturato alla quarta belva in Italia. 32.000 fantasmi. Vogliamo adesso spostarci. Sul sole 24 ore. Il quotidiano nazionale di economia. Vediamo standard report. Rating stabile. Dubbi sul futuro. Giudizio invariato. Ma l'hotl è negativo. Cambio di rotta. Il governo pronti all'intervento per difendere il sistema bancario. Poi nei titoli di spalla. Scusate. Di destra. Grandi opere. Il gasdotto. Il gasdotto. Il TAP. Via libera da Conte. Malumori nel 5 stelle. Nel taglio medio. Sempre nell'articolo di spalla. Si parla sempre di economia. Il PIL USA. Cresce del 3-5%. Tra i nato dai consumi interni. Cassazione. La gelosia non fa scattare l'aggravante dei futili motivi. Domani le elezioni. Il Brasile vota. Il presidente Borsanaro. Grande favorito. Poi nella foto di apertura. Si parla dell'ILVA. L'era Mittal comincia con i manager stranieri. E in basso. Telecom riparte la cessione di Sparkle. Andiamo adesso a spostarci. Al quotidiano La Stampa. Anche qui titolo di apertura. Standard e PUL. Monito all'Italia. Ma il governo rilancia. Non siamo il Botswana. Di Maio contro Draghi. Banca Centrale Europea. Dietro gli attacchi. L'ombra del ministro Savona. Troppi grandi, dice l'analisi. Per fallire? No, è possibile. Nel taglio alto. Nell'articolo quasi di spalla. Netanyahu in Oman. Missione a sorpresa per il processo di pace. Stretta sull'immigrazione. Nel taglio alto di spalla. Destra. Trump e Blin dai confini del Messico. Vogliamo spostarci. Nella foto. di apertura. Anche qui nel futuro a tutta velocità. Parte da Torino. La tecnologia 5G. Dice al via il test. Entro un anno tutto il paese sarà connesso dalla nuova tecnologia. Nel taglio basso. si parla sempre di Desiree la sedicenne uccisa Roma. Desidee quel padre dalla doppia morale. Vogliamo adesso passare al quotidiano Il Tempo. Titolo di apertura. Lasciamola morire. Lasciamola morire. Dicono nel titolo di apertura. Statossica. Esclusivo le agghiaccianti parole dei quattro extracomunitari fermati per l'omicidio di Desiree. Si poteva salvare ma hanno impedito i soccorsi. Soffre. Diamole solo acqua e zucchero. Preso il quarto fuggiasco. Raggi e figo. Ci vuole più amore. Nel taglio medio. Vediamo la foto anche di apertura. Vediamo nella foto il presidente del Consiglio Conte Salvini. Fa moglie non scherzo. Dimoglie che non conviene. Fa manco eredito di cittadinanza. Conte contro i grillini. La tappe si fa. Andiamo andando avanti. Nell'articolo di Spalla si parla dell'Ada. Che pretesti per la protesta. Sciopero contro la guerra. La presa in giro dell'Atac. Dopo Moody tocca a Standard Poor. Di Maio attacca Draghi. Non fa il tifo per l'Italia. Fuori due un'altra agenzia ci declassa. Letto le prima pagina del tempo. Passiamo al quotidiano La Verità. Titolo di apertura. In Europa si gioca con il fuoco. Il piano per poterci portarci via le banche. Lo spread è artificiosamente tenuto alto. Mentre in difficoltà i nostri istituti. Che hanno molti titoli di Stato. E potrebbero essere scalati da francesi e spagnoli. Ma è un azzardo che può divenire un boomerang. Vediamo nella foto di copertina. Non solo Casalino. Tutti i uomini ombra dei politici. Vogliamo vedere nel taglio basso. I covi dove morirà la prossima desiree. Preso anche il quarto uomo dello stupro letale di Roma è del Gana. Ma da Torino a Napoli, da Padova a Lecce, l'Italia è disseminata di enclave fuori legge in mano a clandestini spacciatori. Valori distrutti. Alla sinistra il mandante morale dello scempio della ragazza. Vogliamo vedere nel taglio basso. Missiva al governo italiano. Fermate il decreto Pilon. Ono in allarme per la legge sull'affito condiviso. Vogliamo adesso leggere. Il secolo d'Italia. Titolo di apertura. Anche qui preso il quarto verme. Dice il titolo di apertura. Salia era fuggito da Roma dopo l'omicidio di Desiree e sperava di riuscire a eludere le ricerche degli investigatori. Che lo stavano cercando. Era nel ghetto Gana a Foggia. Nel taglio basso. Vediamo la Meloni. Meloni. Figo peggio della Boldrini. Meloni all'attacco del Movimento 5 Stelle. Pure Trump. Dice sostiene Conte. Ok su manovre migranti. Sondaggio esclusivo index. Giù Movimento 5 Stelle. Cresce la destra. Il secolo XIX. Titolo di apertura. Diciamo che ce ne sono due in questo caso. Standard e Poor's non declassa l'Italia ma vede nubi nel futuro. La crescita frenerà. Il governo replica. Non siamo il Botswana. Di Maio attacca Draghi. Avvelena il clima. In merito al ponte Morandi. Il ponte. La lite su Ischia rischia di rallentare il decreto. Siri ma Genova non pagherà lo scontro con l'Unione Europea. Andiamo a vedere adesso nel taglio medio. Dopo il rogo autorità portuale di Savona caccia a nuovi uffici. Bertha nel board. Treno sviato a Rapallo. Così due eroi per caso hanno evitato il peggio. Andiamo adesso a leggere l'ultimo quotidiano. Poi passiamo alle prime pagine dei quotidiani sportivi. Il quotidiano L'Avvenire. Articolo di apertura. Altro rogo. E l'Italia dei fuochi. I rifiuti bruciati a cielo aperto. Paure e fumi a marcianise. Sospetti di azione dolosa nell'impianto. Già sequestrato nel taglio medio. Vediamo. Di Maio. Il presidente della Banca Centrale Europea. Avvelena il clima. L'agenzia porta a negativa la nostra prospettiva economica. A mezzo sollievo dal governo. Roma infatti dice contro tutti. Nel mirino Drachi. Standard e pur non taglie rating. Poi si parla di decreto sulla sicurezza. Richieste d'asilo. Si forza per l'annaspiramento delle norme. Il Puglia via libera al TAP rivolta del Movimento 5 Stelle. Conte fermarla. Costa troppo. Andiamo adesso a passare alle prime pagine dei quotidiani sportivi. Leggiamo subito il titolo della Gazzetta dello Sport. Andiamo. Leo punta su ringhio. Allarme Milan. Sogno Inter. Zhang punta al mondo. Fatti in merito al Milan. La squadra e il tecnico. Ha rapporto. L'imperativo è un posto in Champions. Paolo Maldini ha ancora fiducia. Giochiamo bene. Invece in merito all'Inter. Il 26enne cinese è presidente e vuole i nerazzurri davanti a tutti. Nel consiglio di amministrazione un solo italiano, Antonello. Nella squadra resta Milli Moratti. Andiamo a vedere anche il taglio basso. Si parla di Juve. Oggi Bianconeri in trasferta a Empoli. Si rivede De Sciglio. Andiamo adesso a vedere la prima pagina del quotidiano Il Corriere dello Sport. Il titolo di apertura con foto di apertura anche. Si parla dell'Inter. Fuori Toric. Il Ramporlo Suning diventa presidente. E a ruola Marotta per tagliare cordone scudetto Juve. Perciò vogliamo anche adesso vedere. Anticipi. Si parla degli anticipi di oggi. Juve a Empoli alle ore 18. Max mi manca la Champions. Perciò vogliamo adesso vedere anche del Napoli. Nel taglio alto la differenza è Ancelotti. Ha dato al Napoli quello che gli mancava. Piangerò. Quando lascerò questa città? Vogliamo adesso vedere il titolo di apertura del quotidiano Tutto Sport. dove si parla del Pogba. Via libera. Apertura dello United. La Juve ha un piano. Prenderlo a gennaio in prestito con riscatto fissato a una cifra superiore a 70 milioni. La sfida di Zhang, il più giovane presidente nella storia dell'Inter, avverte. Rispetto alla Juve però voglio vincere in meno tempo. Marotta per ora nulla ma puntiamo sempre ai migliori. E nel taglio di spalla, in basso, Leonardo e Maldini blizza a Miranello. Gartuso tre partite per tenersi il Milan. Vogliamo adesso fare un attimo un black pubblicitario per poi ripassare la seconda parte di Mattino 6 con la lettura delle pagine interne dei quotidiani regionali. Adesso vogliamo dare un attimo di pubblicità però prima vogliamo vedere le precisioni medie della giornata di oggi. Bentornati alla seconda parte di Mattino 6. Vogliamo adesso dare lettura alle pagine interne dei quotidiani regionali. Vogliamo incominciare con il centro della provincia di Pescara. Titolo interno, Economia e religione, eremi, chiese e cammini per rilanciare il turismo. Un accordo fra regione e vescovi abruzzesi per valorizzare i luoghi dello spirito. Di Ignazio, che è l'assessore al turismo della regione Abruzzo, vogliamo promuovere il territorio, la sua storia e le sue tradizioni. Vogliamo passare sempre sulla provincia di Pescara l'inchiesta che era anche nel titolo di apertura. Inchiesta sulla provincia, furbetti del cartellino, 20 indacati. Ha spasso, invece di andare a fare i controlli, nel mirino della procura ai dipendenti della società che si occupa delle caldaglie. Anche in merito al vigile, licenziato nel 2006, la prima udienza ad aprile. Vogliamo andare sempre sulla provincia di Pescara. Market si riempie di fumo, clienti evacuati, principio di incendio in via di sotto, nell'ora di punta. Una testimone, mi hanno bloccato all'ingresso, tossivano tutti. Nel taglio medio, ragazzina aggredita da un cane nel palazzo via Reginele, nella madre, il pastore tedesco è uscito da una porta lasciata aperta. Scatta la denuncia. A piazza Salotto, i negozianti, ostaggio dei bivacchi e una senza detto, accendo un falò. Aumentano le denunce dei commercianti, in via Parini le fiamme hanno danneggiato una vetrina. Il comune ci aveva promesso telecamere e pulizia. Vogliamo adesso vedere, sempre a Pescara, mezzo milione di lavoratori per i marciapiedi disestati. Blasioli annuncia i primi interventi nelle zone danneggiate dalle radici dei pini. Ma avverte, non possiamo tagliarle, altrimenti facciamo crollare gli alberi. Blitz della polizia nelle sale giochi vicino alle scuole. Vediamo adesso, sempre nel merito alla provincia di Pescara, sosta con tariffe ridotte per le aree di risulta. La Conf Commercio boccia il piano del comune e rilancia la sua proposta alternativa, il PD, a carrozzine determinate. Recepite le vostre richieste sui parcheggi gratis. La candidatura del sindaco di Picciano, Vincenzo Catani. Catani corre per la provincia, così Di Matteo sfida il PD. A riguardo abbiamo un servizio che è stato fatto dalla nostra redazione del Tg6. Prego. Vincenzo Catani, sindaco di Picciano, è il terzo candidato alla presidenza della provincia di Pescara. Una candidatura civica in discontinuità con quella del centro sinistro ufficiale, diciamo. Noi abbiamo aderito a questo movimento civico creato dall'assessore Donato Di Matteo e dall'assessore Andrea Gerosolimo a Bruccio Insieme. Questo è il nostro primo appuntamento a livello provinciale e siamo fiduciosi di un ottimo risultato. La provincia diventerà sempre più un punto di riferimento per i comuni come il suo, delle aree interne. Come si può lavorare per aiutare quelle zone che in questo momento sono in difficoltà? Il primo problema, il problema più grande è la viabilità. Noi già stavo, l'ho detto poc'anzi, ci attiveremo con gli uffici tecnici se io sarò il presidente della provincia dove faremo dei rilievi su tutte le strade, delle schede, punti neri, controlleremo i punti e poi ci dovremmo attivare con i consiglieri, con gli onorevoli che abbiamo in Abruzzo che ci possano dare una mano su Roma perché noi come provincia di Pescara se non vado errato versiamo circa 17 milioni di euro l'anno allo Stato per il bollo auto e io vorrei lavorare su questa cosa, su una cifra che il governo dovrebbe lasciare alla provincia di Pescara e in 4 anni fare una manutenzione seria, rifare gli asfalti, rimettere a norma tutte le barriere risolvere tutti questi problemi dei ponti e i consolidamenti perché le strade sono diventate mulacchiere non si cammina più da nessuna parte. Io vedo che il vecchio presidente ha portato avanti solo alcuni progetti che erano già stati finanziati parliamo dei tre ponti che è un finanziamento del 2000, parliamo della strada di Scafa che è un finanziamento della regione Abruzzo del 2008 e poi c'è stata quella piccola manutenzione dove l'anno scorso è stata l'area della Val Pescara a beneficiarne perché c'è passato il giro d'Italia e quest'anno invece la fortuna è toccata sull'area Vestina dove si sono sistemati alcuni tratti di strada ma la situazione rimane ancora difficile. L'altra grande competenza della provincia è quella sulle scuole Picciano tra l'altro il suo comune è stato un modello per la ricostruzione della scuola primaria. Io sono stato il primo comune in Abruzzo dove ha ottenuto i fondi per la demolizione e ricostruzione della scuola ci attiveremo così pure per le scuole della provincia, ci sono ancora molte schede da finire sull'unica cosa che possiamo fare è la manutenzione ordinaria e per la manutenzione ordinaria ci attiveremo l'estate perché non può capitare più che un ragazzo di sabbele come circa dieci giorni fa è successo a Pescara non funzionava l'ascensore, non ha potuto andare a scuola, questa cosa qua non può accadere. Vogliamo continuare con la cronaca della zona di Montesilvano la lotta alla prostituzione scoppia rissa fra transi, i carabinieri usano lo spray urticante arrestato per la terza volta un colombiano di 30 anni e il comune aderisce alla petizione contro lo sfruttamento vogliamo adesso vedere sempre in merito a Montesilvano spoltore encomio solenne per il salvataggio di un uomo Montesilvano piange gigiotto, stamane alle ore 10.30 i funerali del mobiliere Luigi dell'Aquila croce d'oro dell'Avis vogliamo passare adesso sempre in merito alla politica Luciani si dimette al lavoro in comune e subito un bando per il dirigente comunale dice ora si pensi ai problemi della città Francavilla, coro di consensi per il sindaco che resta ma c'è chi non ha capito le dimissioni anche qui a riguardo vogliamo vedere un servizio svolto dalla nostra redazione del Tg6 prego non mi è stata data neanche quella considerazione che io reputo proprio che faccia parte anche di una educazione, di un'etichetta che è il minimo che ci vorrebbe c'è amarezza nelle parole del sindaco di Francavilla Antonio Luciani all'indomani della decisione di ritirare le dimissioni date per offrire la candidatura governatore nell'ambito del centrosinistra amarezza e rabbia per non essere stato nemmeno ascoltato e invitato a disporre la propria idea di regione il centrosinistra si avvia così a candidare Giovanni Legnini all'investitura dell'ex vicepresidente del CSM manca solo il crisma dell'ufficialità che potrebbe arrivare già nelle prossime ore per Luciani però non basta un nome autorevole a cambiare segno al centrosinistra se non si parte dalle fondamenta vuol dire che io sono un matto un matto che sente istanze di cambiamento dal territorio continuamente ancora oggi mi chiamano persone mi chiamano gruppi per dirmi di non mollare perché questo partito, quest'area va cambiata evidentemente chi governa invece queste dinamiche pensa che vada tutto bene quindi in 4-5 punti di differenza negativa rispetto alle elezioni nazionali di marzo quindi il fatto che ci sia un pessimo giudizio sull'amministrazione uscente quindi tutto questo diciamo resta inascoltato e si vuole andare avanti con istanze che non sono quelle di cambiamento e di rottura col passato certo è che a questo punto i cittadini dovranno valutare perché se la proposta politica dovesse essere in futuro quella di rivedere gli stessi autori che sono stati partecipi in questi ultimi anni della politica regionale vedere gli stessi nomi, le stesse persone aggregate allo stesso modo io non so se ci si vuole far male da soli ma mi sembra che sia così nel frattempo sempre nel centro-sinistra prende corpo il progetto civico di Abruzzo insieme del duo di Matteo Gerosolimo la candidatura diversificata in provincia di Pescara rispetto a quella di di Lorito con Vincenzo Catani potrebbe riverberarsi anche sulle prossime comunali e soprattutto sulle regionali in tutte le sedi noi vogliamo rappresentare una discontinuità tra le vecchie logiche di apparati di partito che guardano molto di più le carriere dei singoli componenti che non a obiettivi programmatici concreti Per quanto riguarda le regionali se il candidato dovesse essere Legnini lo appoggerete? Noi scegliamo i candidati che possono rappresentare questo tipo di identikit e sceglieremo anche chi accetta in maniera decisa i nostri programmi i nostri punti programmatici Lei ha sottolineato l'importanza delle aree interne è stato anche un punto di rottura con il Presidente D'Alfonso in Regione Mi sono dissociato da questa amministrazione che ha preferito il discorso del gettonificio tipo jukebox noi invece volevamo progetti di crescita dei territori Nel centro-destra tarda ad arrivare la decisione sul candidato governatore i tre nomi scelti da Fratelli d'Italia restano legati alla riunione del tavolo romano tra i leader Meloni, Salvini e Berlusconi i vertici regionali di Forza Italia sono in ebollizione rispetto ad una decisione che non arriva a surriscaldare il clima anche le indiscrezioni pubblicate dal Corriere della Sera di un possibile patto di desistenza a Lega 5 Stelle nell'ambito del Movimento 5 Stelle invece resta la candidatura a governatore di Sara Marcozzi Vogliamo adesso spostarci nella zona di Penne Valtavo, Popoli, Val Pescara a Colle Corvino, centro scommesse illegale denunciato il titolare in due giorni 300 puntate e 2000 euro d'incasso arriva la finanza all'appello degli investigatori ai cittadini segnalate le sale gioco giochi irregolari Vogliamo adesso spostarci nella provincia, nel comune di Chieti torna il Coco Festival la città riprende a vivere dal 9 all'11 novembre stende di cioccolato lungo il corso tra degustazioni e musica Vogliamo sempre andare avanti con la provincia di Chieti a vasto residenze degli stupri via lo sgombro il sindaco ottiene il dissequestro del Rossetti e firma l'ordinanza per mettere in sicurezza il fabbricato bonifica in altri 10 edifici provincia di Teramo nuovo ospedale 34 milioni in meno ridotti da 115 a 81 milioni e 600 mila euro uffici sgomberati a Teramo il comune accelera applicata la stessa regola che evita la chiusura di bar e negozi lavori in urgenza per scongiurare il doppio trasferimento case Ater ad Atri cornicione cade su un'auto l'incidente in via d'annunzio riaccende le proteste degli assegnatari sulla scarsa manutenzione degli alloggi vogliamo spostarci alla provincia dell'Aquila tasse e mobilitazione antigoverno lettera al sottosegretario Giorgetti subito un urgente incontro altrimenti torneremo a manifestare a Roma intanto che dal Cipe ecco i 25 milioni per le attività dei comuni terremotati sempre in merito alla zona dell'Aquila l'accusa abusata da madre e padrigno coppia rischia 14 anni di carcere l'incubo della minorenne ferito con due arresti della polizia l'uomo romeno è al Costarelle lei moldava i domiciliari vogliamo adesso passare alla pagina interna del quotidiano il messaggero d'Abruzzo con prima pagina interna si parla delle autostrade allarmi viadotti il MIT che è il ministero delle infrastrutture e dei trasporti a sorpresa ora sono sicure vertice all'Aquila con i prefetti e i dirigenti del ministero efficace a limitare il traffico Toto finalmente chiarezza infatti ieri c'è stata la riunione che si è svolta alla prefettura dell'Aquila a Pescara madre di sei figli incollata alle slot la polizia passa al setaccio le sale giochi tra i casi più gravi di l'utopatia quello della donna uscita dal carcere perché incinta in merito alla politica abbiamo visto anche un video svolto dalla nostra redazione del Tg6 di Matteo Alaconta con il suo Cattani centro-sinistra diviso il sindaco di Picciano candidato alla presidenza della provincia nel segno della discontinuità obiettivo battere i D'Alfonsiani vediamo l'area metropolitana di Pescara una scuola nel nome di Luca Federico alla primaria di Piano d'Orta intitolata al piccolo vittima di una malattia rara spaccio e altre illegalità giro di vite a Rancitelli provincia dell'Aquila raffiore il teatro comunale con i graffiti ottocenteschi il primo tour guidato effettuato ieri assieme ai delegati ed esperti provenienti da tutta Europa la facciata sarà visibile tra una ventina di giorni molto efficace l'operazione condotta da cantieri aperti vogliamo sempre spostarci sulla zona dell'Aquila questa volta la cronaca regolamento di conti tra baby gang l'aggressione all'ITIS emergono nuovi particolari sembrava solo una riduzione per un cane ma non è così sono stati dice identificati due maggiorenni aquilani il caso passa all'attenzione anche della procura dei minori infatti un altro argomento abusi e violenze sulla figlia restati due stranieri vogliamo adesso spostarci anche nella cronaca della zona di Avezzano e Sulmona Sulmona il punto nascita chiude è polemica l'assessore Paolucci che è l'assessore alla regione Abruzzo alla sanità chiederemo al ministero cosa dobbiamo fare per tenere aperto il reparto tavolo decisivo a novembre dice fiumi di proteste da Forza Italia al PD fino ai parlamentari i 5 Stelle e la senatrice di Girolamo rimangono in silenzio a Avezzano facciamo sesso e gli fa sparire soldi e collana d'oro vogliamo adesso spostarci alla provincia di Chieti farmacia di Filippone via libera la vendita posti di lavoro salvi il comune punta a incassare 1.300.000 euro d'ingiulio di Forza Italia un passo previsto e dovuto i dubbi del Movimento 5 Stelle l'azienda è di Chieti solitale timore e dubbi dal Partito Democratico nella zona della cronaca di Vasto Conad è scontro sui licenziamenti i legali degli ex dipendenti nessuna uscita volontaria i 13 cacciati pronti all'impugnazione del provvedimento i sindacati contestano la pianeta SRL traditi gli impegni della trattativa il dramma che è rimasto senza lavoro incidente ferroviario con 100 morti Lanciano si ferma per l'esercitazione sempre a Lanciano emergenza finita per lavoraggine su corso Trento e Trieste Teramo il rettore Luciano D'Amico forse scendo in politica dice possibile impegno nel centro-sinistra alla scadenza del mandato all'università per adesso è soltanto un'ipotesi dice intanto voglio agire nel volontariato vogliamo andare avanti questa volta nella zona di Giulianova Roseto Val Vibrata polo scolastico e ciclabile ecco i fondi la giunta adottato il programma delle opere pubbliche 2019-2021 per un impegno complessivo di 41 milioni e 50 mila euro vogliamo adesso leggere le pagine interne del quotidiano la città della provincia di Teramo si parla delle limitazioni sui viadotti autostradali ieri l'incontro in prefettura all'Aquila a 24 a 25 dice sono sicure anche per il dirigente del ministero andiamo andare avanti Teramo l'ospedale dice l'ospedale nuovo priorità del ministero nella legge di bilancio accantonati 81 milioni e 600 mila euro del sisma per il progetto di Piana Daccio vogliamo costarci su altri argomenti riguardo alla cronaca il degrado il problema del lungo fiume sono i terramani non il comune infatti colpa dell'amministrazione se la città è sporca una delle frasi più sentite in giro sulla bocca dei terramani sempre a Teramo botte e sputi a suocere e cognato a processo muratore accusato di maltrattamenti in famiglia sul banco degli imputati insieme alla compagna asili a Teramo passiamo anche agli asili a Teramo prezzi bassi rispetto alla media pubblicato il dossier di cittadinanza attiva solo a Chiedi la retta costa meno per le menze invece è la più cara vogliamo postarci adesso alla provincia sempre sulla cronaca il ponte sul fiume Vomano pronto per fine aprile approvato giovedì dalla provincia di Teramo il progetto definitivo dell'opera da 6 milioni di euro infatti i tempi lunedì ci sarà la consegna dei lavori che dovrebbero terminare entro 180 giorni rapina a colonnella con il coltello e la tabaccheria sotto casa ragazzo di 23 anni arrestato dopo poche ore dai carabinieri dice l'evidenza il giovane è stato trovato in casa con gli stessi abiti usati per il colmo e con 300 euro in tasca sequestri e multe nel market asiatico di Alba Adriatica Don Luca ecco il carabiniere di Dio la parocchia di Don Ennio Lucantoni assegnata dal bescovo Lorenzo Leuzzi ad un ex militare del RIS Mastro Mauro invece conferma le dimissioni conferenza stampa del sindaco che attacca il partito democrato dice opportunisti dice l'appello dice Mastro Mauro rappresenterò in regione coloro che si sentono oppressi da una sinistra che non li rappresenta si allarga dice il fronte anticentro commerciale nella zona dei pressi della rotonda della strada provinciale 553 e i cittadini e i gruppi politici contrari alla nuova struttura all'uscita della strada provinciale nella zona del comune di Silvi Ambiente nomi eccellenti guardia del Borsacchio nasce ufficialmente l'associazione che difende dice la riserva tra i fondatori Navarra di Marcello Panni e Caserta in merito ad altri argomenti adesso vogliamo ritornare alle pagine sportive questa volta sempre ripartendo dal quotidiano il centro si parla della partita che ci sarà oggi tra Juve e Empoli ci aree 7 non riposa mai dice che sta giocando una partita dietro l'altra si parla di Gattuso che è stata data ancora fiducia fra i rumors e poi il cinese Zhang presidente dell'Inter dice qui farne il miglior club del mondo poi passiamo anche alla partita che ci sarà oggi del Pescara calcio il Pescara oggi gioca con il Cittadella Pilon dice non siamo sazi in campo voglio 11 leoni il tecnico dice a caccia della centesima vittoria in B affrontiamo una delle più forti infatti oggi la partita ci sarà alle 15 il Delfino imbattuto e in vetta dice alla classifica e il Cittadella Venturato Mancuso non è una sorpresa dice il tecnico del Cittadella l'ho allenato nel 2015 si vedeva che aveva grandi qualità ma poi ha scelto di andare via e a riguardo abbiamo anche qui un servizio svolto dal nostro redazione del TG6 prego basta non guardare il primato basta non guardare la classifica e concentrarsi sul lavoro che si deve fare cioè io credo che se siamo una squadra intelligente dobbiamo basarsi su questo lavorare sodo essere concentrati e continuare il nostro percorso che stiamo facendo senza pensare a dove siamo e a cosa stiamo facendo io considero il Cittadella una delle squadre più forti del campionato e vi spiego anche il perché io non guardo il nome della città io guardo quello che ha fatto negli ultimi anni ha sempre centrato i play-off è la squadra che ha vinto fuori casa di più quella che pressa più alto quella che recupera più palloni quella che è micidiale nelle ripartenze perciò questi aspetti devono essere curati e soprattutto la considero una grande squadra perché ha ottenuto negli ultimi anni sempre grandissimi risultati da grande squadra combattendo anche per il primato perciò deve essere considerata una delle squadre più forti del campionato se tu guardi gli altri anni ha cambiato sempre non sbaglio non colpo io conosco la realtà cittadella perché abitandoci a 20 km di distanza la conosco e io ho visto la squadra giocare io le ho viste le partite della cittadella e devo dire che è la squadra che mi ha impressionato di più noi dobbiamo migliorare assolutamente non sono ancora a pieno contento di certe situazioni per esempio 2-0 prendiamo il 2-1 immediatamente dopo gestire meglio la partita certe situazioni dobbiamo pararle dobbiamo concedere anche meno all'avversario perciò ci sono molti aspetti da curare che questi dobbiamo assolutamente migliorare perciò ci sono le immagini di miglioramento e dobbiamo assolutamente migliorare l'ho detto prima che iniziasse il campionato qualsiasi scelta l'avrei accettata sia a 22 che a 19 però adesso campionato iniziato no io le norme io le norme non le so non le so precise queste qui perché sono già i cavoli miei vado a pensare ai normi io dico solo che quando si inizia un campionato quando è iniziato deve finire così una volta che tu lo fai iniziare adesso addirittura vogliono sospendere il campionato adesso ma no io sinceramente qua ci resterai l'ho detto l'anno scorso l'ho detto se c'è la possibilità di prolungare nel tempo sono a disposizione perché mi piace stare qua mi trovo benissimo insomma è il mio lavoro e ci tengo però è chiaro che a vita non so se mia moglie vogliamo passare adesso alla serie C con il teramo caccia al tris di Renzo ancora cappò ventola scalpita domani al Bonolis e Ravenna mai vittoriosi in casa dei Biancorossi da 78 anni rientra il mediano Proietti vogliamo adesso spostarci sempre sulle pagine sportive per questa volta del messaggero anche qui Pescara leader continua così oggi all'Adriatico alle ore 5 alle ore 15 c'è il Cittadella il mister predica calma vogliamo bassi l'appello anche del presidente Sebastiani sulla conferma c'è da convincere prima dice mia moglie vogliamo vedere anche qui in merito al teramo Maurizio non cambia il teramo che vince domani al Bonolis dice contro il Ravenna tutti confermati dopo due successi consecutivi Out Altobelli e Di Renzo vogliamo adesso spostarci sulla cronaca sempre della sportiva però sul quotidiano La Città della provincia di Teramo Sport e Maurizio senza Di Renzo contro il Ravenna La punta dovrebbe dare forfeit ma Strilli con le vittorie si lavora meglio a 5 mi trovo molto bene su un articolo fatto dal nostro Jacopo Forcella e in merito al basket il turno infrasettimanale dice sorride il teramo Giulianova niente impresa l'Adriatica presse vince la prima stagione regalando Catanzaro giallorossi sconfitti in casa dalla corazzata Sansevero in merito al ciclismo Matteo e Fedele si impongono a Scerne di Pinedo al trofeo che anticipa la gara di Torano infatti vediamo qui la foto e anche in merito alle bocce degli sport minori la società sante Gidiese si aggiudica il torneo dice dell'amicizia vogliamo adesso spostarci su un ultimo argomento dello sport del calcio al 5 ripreso dal quotidiano il centro poi come ultimo articolo di chiusura l'acqua e sapone sciupona pesaro pareggia nel finale infatti il calcio al 5 parte tenza spitte dei campioni in Italia che poi si fanno a ciuffare dalla squadra dell'ex pescarese Colini nerazzurri agganciati in vetta dal Re Alchieti io con quest'ultimo articolo volevo concludere la nostra rassegna stampa di oggi che la rassegna stampa di mattino 6 riprenderà lunedì mattina sempre alle ore 8 io vi ringrazio per la vostra attenzione vi volevo ricordare che ci saranno i nostri telegiornali sia alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 per il momento vi auguro buona giornata a Grazie a tutti Grazie a tutti